Pronti ad assistere al sorgere del sole nero dopo la sigla? Ciao a tutti, bentornati nella mia stanza, è giovedì, l'atmosfera cupa è quella adatta perché oggi parliamo di una graphic novel italiana uscita nel 2022 per la casa editrice Shockdom dovrebbe essere scritta da Dario Sicchio, a cui dovrei fare una tiratina d'orecchi perché più di un anno fa gli ho scritto sul messenger di facebook per invitarlo a parlare di giochi di ruolo sul canale e non mi ha mai risposto, va bene, disegnato da Letizia Cadonici e colorato da Francesco Segala, o Segala, Segala credo, sto parlando di sole nero, allora, io ho amato questa graphic novel, l'ho amata tantissimo, a dei livelli paurosi perché questi tre ragazzi, perché insomma, posso definirli tali, classe, credo il più vecchio sesicchio del 90, Letizia Cadonici dovrebbe essere del 91 e anche Francesco Segala dovrebbe essere del 91, sono la dimostrazione che il fumetto italiano gode di ottima salute, è vero, cambia percorso, dall'edicola si sposta alla fumetteria, dalla fumetteria poi alla libreria, cioè quello che volete ma gode di ottima salute, perché quando hai dei ragazzi così che hanno un, stavo per dire pedigree ma non sono cani, un curriculum di tutto rispetto perché sicchio è già andato su Dylan Dogg, insomma, cioè è veramente un'opera importantissima e fastidiosissima da leggere, ci sono dei momenti in cui io ho dovuto interrompere la lettura e non lo nascondo, è una graphic novel veramente bella, non ha niente da invidiare al fumetto d'oltreoceano, non ha niente da invidiare al fumetto franco-belga, cioè non è tanta, è tantissima roba, si vedono le influenze dell'universo vertigo, di cui sicchio è un grande estimatore, tant'è che l'ultima volta che ho visto una sua intervista stava giocando di ruola, richiamo di Cthulhu in un'ambientazione fra John Costantin e Manthink, quindi sono solo che contento, infatti mi calverebbe che venisse a parlarne, quindi dicevo, è veramente un'opera, non saprei come definirla, cioè è un'opera di fantascienza, ucronica, horror, c'è veramente di tutto. Allora, un giorno in tutto il mondo sorge un sole nero, quel sole nero fa uscire fuori le peggiori passioni agli uomini che si abbandonano a qualsiasi scempio, a qualsiasi cosa, muoiono l'equivalente di un milione di persone, qualcosa del genere. Come il sole nero è sorto, il sole nero tramonta, la mattina dopo è tutto normale. Quattro anni dopo questo evento il sole nero sorge di nuovo, con effetti ancora più devastanti, effetti ancora più potenti sull'essere umano. Muoiono, credo, qualcosa come quattro milioni di persone in questa seconda cosa, questo secondo giorno del sole nero. Ma cosa succede? Che le donne che sono rimaste incinta la prima volta e la seconda danno alla luce delle creature particolari. Queste creature saranno poi chiamate i figli e le figlie del sole nero, perché sono umani a tutti gli effetti, ad eccezione della pelle color cenere, un collo più lungo del normale, occhi rossi e capelli bianchi. E sono l'immagine, il ricordo imperituro di quei due giorni. Le persone le trattano come mostri, le trattano come diversi, come alieni nel senso latino del termine, come creature di un altro mondo, nonostante che gli studi medici che sono stati fatti su di loro risulta che sono umani al cento per cento. Quindi il loro DNA è uguale al nostro, tranne appunto per queste particolarità che vi ho detto, capelli bianchi, occhi rossi, pelle color cenere e questo collo lungo. Questa è la storia di quattro di loro, due nati nella seconda uscita del sole nero, allora voi guardate soltanto l'inizio, non ci sono veramente parole. Poi c'è un tema scritto dai bambini e questo è quello che si vede. E questo è uno dei nostri protagonisti. questo è uno, scusate, questo è uno dei nostri protagonisti. Quella è la sua amica e sono quelli della seconda generazione dei figli del sole nero. La cosa particolare è che questi vivono in una città che si chiama Bright, oddio, lo volevo segnare, facevo prima a scrivere, Brightvale e si stanno preparando al celebrare il festival della speranza, di Hope Festival. Ed è la celebrazione del giorno in cui c'è stato il sole nero, perché poi dopo con la speranza il sole nero è, come si dice, tramontato e poi è sotto il giorno, normale. Qui poi arrivano i due figli della prima generazione del sole nero. Eccoli qua, vediamo se qua si vede meglio. E hanno un carattere ben diverso dai secondogeniti. Che vuol dire ben diverso? Mentre i secondogeniti, quelli più piccoli, per capirsi, cercano in tutti i modi di integrarsi, di vivere con gli altri, perché si sentono uguali, i figli del primo sole nero si rendono conto di essere diversi, però migliori e in quanto migliori destinati a comandare gli umani. Se ne rendono conto perché hanno parlato con il profeta, o la profeta, qualcosa del genere, e vi faccio vedere il profeta, vediamo un po', ecco qua, guardate soltanto queste illustrazioni qui. Ora, ecco, non ci sono parole per definire i disegni, per definire il tratto. Perché dicevo che hanno molto, devono molto alla linea vertigo? Perché le persone hanno paura, perché il sole nero mostra, col fatto che le persone si abbandonano agli eccessi del proprio animo, del proprio io, non ci sono più i freni inibitori, non c'è più le regole della società. Quindi l'uomo abbandona la sua razionalità per abbandonarsi agli impulsi, che possono essere selvaggi, che possono essere violenti, quello che volete. E questo ricorda molto il fumetto vertigo, ricorda molto Sandman, ricorda molto Constantine. Quindi si vede che c'è uno studio, una cultura fumettistica dietro. Ma c'è anche il cinema, perché i bambini fatti così non sono altro che un richiamo esplicito e voluto al villaggio dei dannati. I grandi spiegano ai giovani, quindi la prima generazione del sole nero spiega la seconda, e prima lo fa con scene veramente pesanti, in cui si mostra come i figli del sole nero hanno la capacità di percepire i sentimenti degli uomini tramite, vi dico il nome esatto, dovrebbe essere risonanza, ma voglio essere sicuro, dovrebbe essere risonanza, sì, la risonanza, riescono a percepire i sentimenti delle persone, o meglio, le persone producono una specie di vibrazione, un'emissione che è la risultanza di varie componenti emotive, psicologiche e persino genetiche. Con il tempo e l'allenamento riuscirete ad avvertirla. Quelli come noi, quindi i figli del sole nero, sono in grado di emettere una vibrazione più potente delle altre, talmente potente da riuscire ad alterare le vibrazioni altrui, una risonanza, come la chiamiamo noi. Quindi è un'empatia portata all'ennesima potenza. Purtroppo però, questa empatia, questo desiderio, di questa capacità di percepire le emozioni delle altre persone, si volge contro di loro. La protagonista vuole che suo padre sia felice. Lei chiede soltanto la felicità, lei chiede di poter dare la felicità a tutti, con risultati drammatici. Dice a un certo punto che, dice, so che, rivolta al padre che le ha sempre veduto bene e che le ha lasciato, lui e la figlia, quando la figlia è nata, dice, papà so che tu ami questa signora, io voglio che tu sia felice, vada a lei e amala, qualcosa del genere. La scena dopo è il padre che si fa trovare, violando la casa della signora a casa di lei, questa signora, si cala i pantaloni, resta in boxer, lei lo caccia via dicendogli, se non te ne vai, ti denuncio, e quando il padre si rende conto che il suo sogno di essere felice si è infranto, con la vergogna, con il non saper come andare avanti, mette fine alla propria vita. la parte che alleggerisce questa cosa, o meglio che alleggerisce, che la rende forse ancora più particolare, sono queste pagine qui, questa griglia di 3x4, queste, che sono presenti ogni tot pagine, dove gli scienziati, gli specialisti cercano di dare una spiegazione al fenomeno del sole nero. Ci sono tutti biologi, antropologi, fisici, sacerdoti, occultisti, addirittura si va a prendere il sole nero di esoterica memoria, questa qui, e tutti, tutti questi specialisti arrivano tutti alla stessa conclusione, non hanno capito un cavolo, non hanno capito un tubo di come è potuto avvenire questo effetto, questo fenomeno. il giorno della speranza, quando la popolazione non ne può più, e viene svelato poi il mistero che però non vi dico di Brightvale, perché non è corretto che vi vada a raccontare com'è il finale, si assiste al sorgere del nuovo sole nero, con questa vignetta, questa pagina. allora, io vi devo dire la verità, è un'opera che turba, perché vedere la violenza, vedere come le persone si abbandonano ai propri impulsi, scoprire il perché i figli del sole nero vivono in quella città, è veramente una cosa, si disturbante, molto particolare. ecco, vi dico, il primo impulso che ho avuto, il primo senso di deja vu che ho avuto è stato che stavo leggendo non una graphic novel italiana, un'opera italiana, ma un'opera dell'avvertivo. mi ci mancava che a un certo punto arrivassero o John Constantine o Preacher a risolvere il mistero del sole nero e il cerchio sarebbe stato completo. Comunque, sole nero, Shock Dome, edizioni, questo, vi metto il link Amazon sotto, mettete like, mettete dislike, iscrivetevi, abbonatevi, perché date la possibilità al canale di andare avanti, io ringrazio gli abbonati e noi ci vediamo al prossimo video, ciao e alla prossima!